Se fosse un'orchestra a parlare per noi Sarebbe più facile cantarsi un addio Diventare adulti sarebbe un crescendo Di violini e guai I tamburi annunciano un temporale Il maestro è andato via Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente Anzi leggerissima Parole senza mistero No, siamo già stati qui l'anno scorso Torino Quello che abbiamo fatto con Carmine Consoli Diciamo che è la seconda volta Da Milano Da Ravenna E dalla Sardegna Da dove veniamo direi che ci vede Siete bravissimi C'è i concerti all'aperto Ci piacciono l'anno scorso per Dio dato Buona serata in Vale d'Aosta Se bastasse un concerto per far nascere un fio Grazie a tutti Grazie a tutti